Ciao a tutti, oggi un film a tematica cinema, ebbene sì, immagino sappiate, molti di voi sapranno che io sono super super cinefilo e quindi ogni tanto vi beccate un video a tematica cinema, soprattutto per film sui quali mi piacerebbe discutere anche con voi, diciamo. Oggi vi parlerò di un film in particolare, MADRE, punto esclamativo, urlato così, MADRE, che tra l'altro in italiano è stato tradotto letteralmente, il problema è che diventa MADRE, cioè perché rimanda immediatamente a Jean-Claude, MADRE, punto esclamativo, e io vabbè scusate me l'ho servita su un piatto d'argento. Il fatto sta che non so se abbiate visto questo film, ma è stato molto molto chiacchierato, io ad esempio pur avendo curiosità ho aspettato a vederlo, nel senso ho colto l'occasione giusta, perché è regista, piace a tantissimi, però chi mi conosce bene sa che io non lo apprezzo particolarmente, pur riconoscendogli il talento, cioè è uno di quegli autori di cui dico è bravo, sa fare il suo mestiere, ma a me non piace, non mi piacciono le tematiche, non mi piacciono molti approcci di tipo visivo, ad esempio il regista Aronofsky, Daren Aronofsky, di cui ho apprezzato finora un unico film, che è Pigreco il teorema del delirio, che l'ho trovato molto interessante, per quanto estremamente citazionista, però ci sta, nel senso che alla base del suo cinema c'è molto citazionismo, oltre che una ricerca comunque volontaria del kitsch e del too much, decisamente, ad esempio, ma sia dalle cose esplicite, ovvero effetti speciali brutti e cose, e altre cose del genere, e sia anche a livello narrativo, c'è proprio un'immersione nel kitsch, volontaria comunque. Questo film, nonostante le mie diffidenze verso l'autore, che comunque rispetto, ma non è nelle mie corde, consentitemelo a ognuno ai suoi gusti, comunque a livello oggettivo riconosco le sue capacità, questo film mi ha incuriosito molto, perché sembrava una sorta di esplosione autoriale, in un certo senso, la presa di libertà, soprattutto dopo che Aronofsky ha anche scontentato i fan con un blockbasterone come Noah, che è il suo precedente film. Madre, invece, si prospetta sin da subito, sin da quando è stato lanciato in occasione del Festival di Venezia, dove ha ottenuto reazioni molto turbolente dal pubblico, che l'hanno fischiato alla grande, sin dai poster, dal modo in cui nessuno capiva di che cavolo parlasse. Molti parlavano di una probabile associazione con il classicone di Polanski, Rosemary's Baby, non ha nulla a che fare con Rosemary's Baby, c'è un citazionismo spudurato anche nelle locandine, c'è una locandina che è proprio il rifacimento del classico di Polanski, e quindi il pubblico si è disorientato sin da subito. E secondo me ha un livello anche geniale, nel senso che è un film che punta a confondere e disorientare. È molto difficile entrare nel mood del film, quanto è molto facile invece farsi avvincere. E il film l'ho trovato interessante, tant'è che nonostante non mi abbia sconvolto l'esistenza, io l'ho trovato molto, molto interessante, tanto da farmi pensare per giorni e giorni. Ci sono comunque delle cose che non ho gradito, ma in linea generale posso dire che mi è piaciuto. Ed è il classico film che o piace o si detesta, quindi sono curioso di sentire la vostra, è anche per questo che voglio fare, che ci ho voluto fare un video a riguardo. Sì, confonde, confonde le idee, confonde le idee ma allo stesso tempo è capace di avvincere tanto. E secondo me, nonostante ci siano comunque anche qui dei momenti veramente kitsch, esagerati, troppo esagerati, anche dal punto di vista visivo, ho trovato che comunque la regia di Aronofsky fosse espressione di un talento veramente percepibile. Qua ha dato il massimo, secondo me, proprio dal punto di vista di narrazione visiva di una storia. Ma poi ci arriviamo con calma. Protagonisti del film, gli attori, sono appunto una coppia d'oro, nel senso che abbiamo Javier Bardem da una parte, a Torone, e Jennifer Lawrence, che è una delle attrici di punta del cinema contemporaneo americano, conosciuta dai più per il suo ruolo come protagonista nella saga di Hunger Games, ad esempio. Una coppia piuttosto particolare, perché lui è molto più anziano di lei. Lei è la giovane moglie, appunto, di Javier Bardem. Javier Bardem è nel film, interpreta un poeta, un poeta alla ricerca di ispirazione, in sostanza. Un poeta che sta cercando di scrivere e che va a vivere con la giovanissima moglie in questa casa che lei sta ristrutturando. Una casa che apparteneva al poeta e che è stata distrutta da un incendio precedentemente. Il film inizia a prendere una piega subito intrigante da un punto di vista di mistero. La regia funziona bene perché nella prima parte del film Aronofsky è estremamente elegante, dimentica un po' il suo ritmo forsennato. Ad esempio, so che a molti di voi piace, a me no, per quanto capisca perché l'abbia girato così. Però, ad esempio, il ritmo e i cambi di prospettiva, le inquadrature esagerate di Requiem for a Dream mi hanno fatto venire, non ce la facevo a guardarlo quel film, ma non perché fosse potente, ma perché forse esagerato dal punto di vista visivo, no? Invece qua ci ho visto, nella prima parte, un'estrema eleganza nell'uso delle inquadrature, nei movimenti di macchina e nella capacità di farci immergere completamente nel punto di vista della protagonista. Tutto il film è girato dal suo punto di vista, con abbondante uso di riuscitissimi primi piani, anche primissimi piani, però la vediamo solo così, continuamente, continuamente. Costringe sin da subito ad adeguarsi dal suo punto di vista, che è un punto di vista totalmente dentro la storia, perché comunque lei è la protagonista, ma allo stesso tempo è strana da tutto quello che si crea, dall'inferno che si crea, perché è un film che, come molti altri di Aronofsky, alla fine è un'allegoria, è un'allegoria che ha potenti rimandi biblici, soprattutto derivati dalle tematiche di tipo apocalittico. Ma in realtà il film è un'altra allegoria, ci arriveremo dopo, ma non voglio dare ulteriori spiegazioni, perché è uno di quei film a libera interpretazione, diciamo. Quindi noi vediamo tutto il film dagli occhi di lei, che si vede sin da subito arrivare gente in casa. Infatti sembra un normale home invasion movie, che nella prima parte, dicevo, è molto lento, è molto, ma lento bello, nel senso che è un lento che ti inchioda, che ti fa comprendere qualcosa andrà storto, chissà cosa, e così è per un'ora abbondante. È un'ora abbondante che comunque ti fa intendere, si sta entrando sempre di più in quest'inferno, no? E funziona, funziona a questo ritmo. Infatti ho detto, caspita, mi sta piacendo, no? La storia prende, inizia a prendere piede con l'arrivo di quest'uomo, che il padrone di casa decide di accogliere, e di cui successivamente accoglierà moglie, figli. Quindi succedono un disagio dietro l'altro, e per motivi che non vi dico, per non rovinarvi il film, ci sarà sempre più gente, sempre più gente, sempre più gente, e noi vivremo la frustrazione della protagonista, che si sente tagliata fuori da questo mondo, e sente di non avere comunque la sua parola, il suo punto di vista, su quest'invasione di gente. Sente di non valere più nulla, in sostanza, e inizia ad essere frustrata, nonostante il forte amore che lei prova per il marito. Allora, la seconda parte prende un'accelerazione di ritmo progressiva, fino a diventare soffocante. Questa cosa funziona bene, tant'è che la prima parte del film prepara una vera e propria apocalisse, un'apocalisse che toglie il fiato. Questo film è perfetto dal punto di vista di regia, soprattutto, secondo me, perché noi diventiamo la protagonista, ci costringe a diventare lei, che si trova improvvisamente, e non si sa come, in un inferno, in un inferno vero e proprio. E questo viene nel film costruito progressivamente, ed è molto bello, ma quando ti accorgi di essere all'inferno, arriva PUM! Così. Questo l'ho apprezzato molto, e per questo volevo parlarne. Infatti, secondo me, Aronofsky qua ha dato il meglio di sé a livello di regia. Non lo vedevo così ispirato, da quel punto di vista, da tempo. Credo di non averlo mai visto così ispirato. Nel frattempo mi arriva l'allergia al trash, e non so perché. Scusate, voi sapete che ogni tanto io, senza tagli, così a un passant, vabbè. C'è una cosa che non ho apprezzato di questo film, però, è che secondo me è uno dei grossi difetti di Aronofsky. Poi mi direte voi se la pensate così, o diversamente, perché naturalmente siamo qua per discutere e scambiarci opinioni. Questo film è, tra le tante cose, perché si assomano metafore, tematiche, eccetera, una forte allegoria sulla ispirazione, sull'artista che svende le proprie idee, se vogliamo. Le dà impasto al popolo, si priva dell'intimità, dei propri affetti, e li commercializza. Il problema è che è vero che ci sono simboli, metafore, meno spiegate, ma, te lo urla in faccia. E questa cosa l'ho detestata, perché se, se avesse limato, reso meno chiare, le cose, probabilmente sarebbe stato un film bellissimo. Invece a me ha fatto, ha urtato i nervi, perché c'è stata questa esigenza di lanciare spiegoni, e quindi ha anche dialoghi troppo, troppo dascalici. Addirittura si dice, io non lo dico, però si dice proprio, chi è, cos'è l'ispirazione, qual è il cuore dell'ispirazione, cioè, ma veramente, l'unica cosa che non ho apprezzato. In linea generale è un film che lascia una forte confusione in testa, ma che secondo me è stato ingiustamente bestrattato, perché per quanto possa essere un film barocco, imperfetto, caotico, ha un sacco di spunti interessanti di riflessioni, qui di riflessione, quindi io ve lo consiglio, e vi invito, nel caso l'abbiate visto, a dire la vostra nei commenti. Le prove attoriali mi sono piaciute, mi è piaciuto il modo in cui Aronofsky ha gestito i due attori protagonisti, perché sia lui che lei, nella prima metà del film, sono catatonici, li vedi sempre con la stessa identica espressione, lui è così, lei è così, ha sempre questi occhioni, no? E dalla seconda metà del film, anche qua, si raggiungono dei livelli di espressività di un certo tipo, no? Ad esempio, Javier Bardem è sempre, è l'artista immerso nel proprio ego, lei invece va continuamente, si immerge nel crollo nervoso, nel terrore puro, e questa cosa è resa bene, questa progressiva ricerca di espressività, in un certo senso, dal punto di vista attoriale, cioè inizi, all'inizio dici, ma come recitano questi? Poi capisci che siccome recitano tutti così, almeno i protagonisti, che sembrano quelli più morti all'inizio, in realtà è voluto, ho trovato molto buona anche la direzione degli attori. È un film che ho trovato interessante, più gli star muti in live, perdonatemi, insomma, non si fa. È un film che ho trovato molto interessante, ce la possiamo fare, e di cui vorrei chiedervi la vostra opinione. In linea generale, non è un capolavoro, secondo me, è un film con molti difetti, ma che ho trovato ottimo, nella creazione dell'atmosfera, nella regia, nella recitazione, e anche nella storia. Peccato solo per certe scelte, poco coraggiose, didascali, che ci spiega le metafore. No, 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 non ci siamo. Fatemi sapere la vostra nei commenti, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, lo vedreste, non lo vedreste, l'avete visto, non l'avete visto. Io vi aspetto per un prossimo video, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao, ciao!